Ha scelto di concordare la pena in appello a 4 anni e 6 mesi un ottuagenario nisseno ritenuto responsabile del tentato omicidio di altre due persone, un uomo e una donna di Caltanissetta, alle quali dovrà anche versare il risarcimento danni che sarà deciso dal giudice civile. Le due persone offese si sono costituite parte civile con gli avvocati Ernesto Brivido e Massimo Nemola. Il giudice della Corte d'Appellano dunque ha colto la richiesta di concordato di pena avanzata dall'avvocato difensore Angela Bertolino. In primo grado, nel gennaio di quest'anno, l'imputato si era visto infliggere 8 anni e 6 mesi dal tribunale. Era il 31 dicembre 2019 quando l'anziano pensionato si presentò al villaggio Santa Barbara nella casa che aveva affittato ai due nisseni e cercò di sparare contro di loro utilizzando una pistola che fortunatamente si era inceppata. L'uomo aveva pure colpito l'inquilina alla testa con il calcio dell'arma. Poi era intervenuto l'uomo, il quale era riuscito a far perdere l'equilibrio all'aggressore spintonandolo. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri e poi nel corso del processo, all'imputato era andato il sangue alla testa perché i due inquilini non avevano più pagato l'affitto da tempo. Il fatto si era verificato all'esterno dell'abitazione di Santa Barbara e la scena era stata ripresa da una telecamera di sorveglianza installata nelle vicinanze. Sulle base delle immagini i militari dell'arma avevano ricostruito il fatto e la procura aveva poi deciso di procedere per tentato omicidio.